Diamante ha salutato ieri il padre dell'intuizione che l'ha reso uno dei paesi più dipinti d'Italia, Nanni Razzetti, genovese di nascita calabrese di adozione che negli anni 80 trasformò le mura del centro storico cittadino in una pinacoteca all'aperto e passato a miglior vita all'età di 89 anni. Questo murales lo ritrae al fianco del sindaco dell'epoca, l'ingegnere Vasio Pascale, che appoggiò insieme alla collaborazione di tanti altri cittadini l'artista genovese nella realizzazione del suo progetto. Tanti i colleghi che Razzetti, in queste immagini intervistato dalla emittente Tele Diamante, portò in riva al terreno in quegli anni, ospitati negli alberghi e alcuni anche in case di privati cittadini. Sulle mura di Diamante presero forme storie, leggende, racconti mistici, scene di vita quotidiana, un caledoscopio di colori e suggestioni impossibile da non notare per chiunque percorresse quelle strade. Razzetti diede l'impulso ad un'idea di turismo culturale innovativa che rappresentava una sorta di monito a puntare su altri elementi che non fossero soltanto il cemento e il commercio delle seconde case. Una sfida che non può dirsi vinta, vista la trasformazione che il territorio ha subito proprio a partire da quegli anni, ma che ha comunque gettato una luce, ha regalato una chiave di lettura diversa, un modo di guardare e valorizzare i luoghi che puntasse sull'emozione e sull'empatia tra visitatore e paese. Una traccia ravvivata negli anni tra mille contraddizioni, con nuove ondate di dipinti e altri che sparivano sotto i necessari e sacrosanti colpi delle ristrutturazioni edilizie. Oggi più che mai, in onore di quel pittore genovese che regalò a Diamante un bagliore di luce e una notorietà internazionale, diventa prioritare una regolamentazione per la tutela di questo patrimonio artistico e storico e perché no una strada, una piazza o più semplicemente un premio dedicato alla sua memoria.